Ben ritrovati amici di InfoCilento a questo nuovo aggiornamento meteo. Persisto ormai da molti giorni sull'Italia un campo di alta pressione che comporta tanto sole anche sul nostro territorio. Alta pressione di origine nordafricana per cui oltre al bel tempo abbiamo anche temperature decisamente elevate. Ad inizio settimana abbiamo raggiunto punte fino a 40 gradi. Attualmente i valori massimi sono leggermente scesi ma ha aumentato il tasso di umidità per cui il caldo persiste e risulta ancora fastidioso. Lo vediamo bene in questa grafica. Ecco i valori massimi che registreremo nel weekend. Ancora punte diffuse fino a 34-35 gradi anche leggermente superiori nelle zone più interne. Ma vediamo in dettaglio cosa dobbiamo attenderci nello specifico sul Cilento, Vallo di Diano e Alburni nel corso del weekend. Cominciamo con la giornata di sabato quando avremo ancora tanto sole su gran parte del territorio. Temperature senza variazioni di rilievo quindi ancora piuttosto caldo. Diamo uno sguardo anche alla giornata di domenica quando sostanzialmente il tempo non cambierà. Ancora cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Cilento. Temperature ancora al di sopra della mea del periodo con punte fino a 35-36 gradi nelle zone interne. Bene con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci! Grazie! 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 Grazie!